Chi l'ha detto che la cuccia dell'amico di casa a quattro zampe deve suonare con il resto dell'arredamento e che durante le passeggiate orribili cappottini sintetici debbano avvolgere gli amati cuccioli? O che ancora la ciotola in una cucina non rispetti la palette dei pensili? Noi di Luxury siamo allora andati alla ricerca di accessori degni di padroni dal gusto ricercato per allineare i pelosi di famiglia al mood domestico con un occhio al design, alla qualità e al senso estetico con collari di Gucci, ciotoli di Celine, cappotti di Montclair e molto altro ancora. Accessori di un certo livello per cuccioli in famiglia in stile Luxury.